Con l'attaccante della primavera, gialloblu Filippo Yeboah, oggi in golle nelle 2-0 contro la Juventus. Filippo, intanto ti chiedo che emozione si prova a tornare a segnare, soprattutto in un match così. Sono molto contento, anche perché era da un bel po' che i miei compagni mi aspettavano. Dopo l'operazione, ora sono riuscito a tornare e sono riuscito anche a aiutare la squadra, come si deve. Abbiamo portato tre punti a casa. Questo campionato primavera 1, come lo stai vivendo? Nelle ultime giornate stai tornando, è una bella emozione, immagino, per un campionato anche altrettanto impegnativo. Sì, è una bella emozione poter competersi con le altre squadre come sono. Sono molto forti e dobbiamo mettercela tutta, come abbiamo fatto fino adesso. Questo è il tuo ottavo anno nel settore giovanile, gialloblu, insomma, è una storia che prosegue, la tua, ti trovi bene qui? Sì, sì, qua mi trovo molto bene. Infatti ho intenzione di restarci, di continuare.